E' morto a Canicattì l'avvocato Vincenzo Livatino, padre del giudice Rosario, vittima della mafia. Lo si ricorda in particolare per l'impegno sociale a favore della legalità. Lo ricordiamo tutti per la pacatezza dei modi, per la riservatezza, per l'estrema sensibilità dimostrata in ogni circostanza, nonostante avesse nel cuore costantemente una ferita aperta per la tragica scomparsa di suo figlio. E' morto a Canicattì a 93 anni nell'abitazione di Viale Regina Margherita dopo una breve malattia l'avvocato Vincenzo Livatino, padre del giudice Rosario, ucciso dalla mafia nel settembre del 1990. Si è spento la notte scorsa nella sua Canicattì e subito la notizia ha addolorato non soltanto tutta la comunità canicattinese, ma l'intera provincia di Agrigento. Vincenzo Livatino era molto conosciuto non solo perché padre del giudice Livatino, ma soprattutto per il suo impegno sociale rivolto in modo particolare al rispetto della legalità e contro le organizzazioni malavitose. Nonostante gli acciacchi legati all'età, nonostante l'ennesima perdita nella sua vita che lo aveva ancora una volta ferito, quella della moglie Rosalia Corbo, era sempre presente a tutte le manifestazioni organizzate dalle istituzioni, dalle scuole, dalle associazioni a favore della legalità. Quasi un dovere morale verso il figlio, eroe suo malgrado, la cui vita si era da sempre caratterizzata per la profonda dedizione verso il lavoro che amava e per la profonda fede verso Dio. Vincenzo Livatino stava anche seguendo in questi ultimi anni la causa di beatificazione del figlio avviata dall'arcivescovo emerito di Agrigento Carmelo Ferraro, per ribadire quel suo sincero senso del dovere messo a servizio della giustizia al punto da farne un missionario del diritto. Un martire della giustizia e indirettamente anche della fede aveva detto di lui Papa Giovanni Paolo II il 9 maggio del 1993, nell'ormai famosa visita ad Agrigento, occasione nella quale tra l'altro incontrò proprio i genitori di Rosario Livatino. I funerali di Vincenzo Livatino verranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa di San Domenico a Canicattì. La salma verrà poi tumulata nella tomba di famiglia dove riposano la moglie Rosalia Corbo e il figlio Rosario Angelo. Una famiglia che si riunisce ancora una volta in un'altra vita che finalmente li vede ancora insieme.